Si potranno riutilizzare le acquiesantiere in chiesa, così come ci si potrà nuovamente scambiare il segno della pace. Due pratiche dunque che sarà possibile ripristinare stando ai consigli e suggerimenti dati ai vescovi dalla conferenza episcopale italiana attraverso una lettera allora indirizzata. Saranno gli stessi vescovi però a valutare localmente, in base alle singole situazioni, il da farsi e dunque a mettere in atto particolari ed eventuali provvedimenti. Si valuti, si legge ad esempio sul sito della CEI e anche sui social, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l'opportunità di raccomandare l'uso della mascherina. E ancora si mantengono alcune indicazioni, come quella di non prendere parte alle celebrazioni nel caso di positività al SARS-CoV-2 e dunque di isolamento, o di sintomi influenzali. L'indicazione di igienizzare le mani e l'ingresso dei luoghi di culto. Igenizzazione consigliata anche per i ministri prima della distribuzione della comunione. Distanziamento tra i fedeli non più necessario, mentre si inseriscono anche altre due possibilità. Una relativa allo svolgimento delle processioni offertoriali e l'altra riguarda le unzioni senza l'ausilio di strumenti durante battesimi, cresime, ordinazioni e unzione dei malati.